Il tiro a segno Pistoia del presidente Livio Di Stefano festeggia la straordinaria prestazione di Susi Folchini, vice campionessa italiana nella categoria Juniors. La 18enne atleta pistoia si ha conquistato con merito una bella medaglia d'argento nella specialità della pistola sportiva 25 metri. Susi Folchini ha anche stabilito il record personale di punti giungendo ad una sola lunghezza dalla vincitrice. Tanti atleti che hanno fatto la storia e qualcuno che si appresta magari a farla, siamo con Susi che è vice campionessa italiana categoria Juniors di tiro a segno, si è laureata pochi giorni fa nella manifestazione che si è svolta a Roma. Insomma una bella soddisfazione questo titolo e anche una bella soddisfazione essere qua insieme a tutti questi olimpionici. Sì tantissimo, sentire le testimonianze di tutti questi olimpici, tutte le sensazioni provate è una cosa stupenda perché uno se lo immagina cosa può provare un atleta essendo lì alle Olimpiadi. Ma l'immaginazione secondo me deve essere proprio tutt'altro differente dalla sensazione vera che un atleta può provare, che appunto ci hanno un po' raccontato minimamente, non si può raccontare tutte le emozioni. Anche il tuo obiettivo è a cinque cerchi. Sì ovviamente l'obiettivo si punta sempre in alto, per ora però sto a piedi per terra e sono felice di quello che per ora ho ottenuto.